Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, oggi ci siamo tutti, tra gliatella pure, siamo sempre là ragazzi, i titoli dei giornali sono sempre tra virgolette, tutti i giornali diciamo che titolano sulla roba della tassa della benzina per i terremotati, leggo dice un po' di benzina per i terremotati, sisma in Emilia, benzina più chiara dice il messaggero, il mattino di Napoli dice terremoto rincara la benzina, il Libero tassano pure le macerie, noi paghiamo l'oro no dice il giornale, benzina più chiara per il terremoto. E Repubblica invece punta, inchiesta sulla strage degli operai, i capannoni insomma e cose vada, che ne pensiamo qua, tu che ne pensi? I capannoni l'hanno fatti malissimo, pur di tirarli su non hanno guardato la sicurezza perché hanno fatto vedere un capannone fatto vent'anni fa con dei sistemi diversi e non è crollato, come mai? Come mai? Siamo mica tecnici noi, chi ha sa questa cosa? Il problema è che la gente per tornare a lavorare, perché la gente voleva cominciare, voleva riprendere la vita e... Sì ma potevamo aspettare un po', no? Lo so, a John Wayne, lo so Quella è quella che vive l'industria, qui viviamo di pubblica amministrazione, quindi è completamente diverso, loro prima riprendono a lavorare, prima possono portare avanti il Made in Italy, per certi versi. Capito? C'era gente pure che c'aveva paura di perdere il posto di lavoro, c'era gente che c'aveva paura di perdere il posto di lavoro, attenzione. Tra l'altro, tra l'altro, e bisognerebbe anche chiedersi come mai le chiavi di aggancio, trave e pilastro non sono state mai fatte, come invece già la legge dal 1965 impone sui capannoni. Possiamo fare un saluto a tutti gli amici emiliani, che veramente, io rivedendo le immagini dei vari TG, sta gente è proprio disperata, è proprio disperata. E anche un appello, se magari hanno tutto sto parmigiano veramente, se fanno dei viaggi a Roma, nelle piazze... Sì ma chi fa i viaggi? Ho capito, delle ditte, noi ci impegniamo a farglielo vendere, almeno rientrano di qualche soldo, invece di buttarlo, perché non è possibile. Ci vendono i fiori sulle piazze, ci vendono le arce, ci vendono quello, ci vendono l'altra. E si venderà pure il parmigiano emiliano. Non portano il parmigiano a vendere le piazze. Bravo, appunto, sarebbe una cosa per fare questa poraccia. Poi si parla, scusate, non che abbiamo argomento, qui la storia della parata, esempio, il fatto quotidiano, c'è il disastro e la parata, dice il fatto. Addirittura, Dario Fo e Franca Rame dicono, presidente chiede scusa e ci ripensi, mentre è libero invece è, credo, pro parata, mi sa. Vedi, nostalgia coniglia, il popolo dei no 2 giugno si attacca pure a Forlani. La parata è sobria, come ieri avevamo detto, non ci saranno le frecce tricolori. Non ci saranno i cavalli. Non ci saranno i cavalli. Non c'è il rischio di mangiare finta. Che voglio dire? A motore. E quindi che... Aspirata si fa. Poi ci sono quelli che dicono, tanti soldi erano stati già spesi. Quelli che dicono no, insomma, siamo sempre noi italiani, non si sa, non si sa. Non si sa mai. Non è come dire che la tassazione che faranno adesso sulla benzina bisognerà vedere se realmente poi arriva a loro. Questo è anche... Questo è un grosso punto interrogativo. Questo è un grosso punto interrogativo. Apposta, dico. Noi già stamattina abbiamo fatto il dipendimento con una città di posti. C'è la ragione Cesare. C'è la ragione Cesare. Sempre ci sono state le accise. Sì, ma ancora le paghiamo per loro. E ancora le paghiamo. Sarà finito. Sti soldi che diamo per loro. Il problema è che poi quei posti non sono stati ricostruiti. G8 alla Maddalena, il famoso G8 alla Maddalena, ragazzi. Tutti quei soldi. Dove sono andato? Massa come va... Scusa, Rosazzo. No, no. I soldi che abbiamo dato a loro, no? Al Belice, all'Irpinia. Quelli intanto li abbiamo pagati. Li dissero all'Emilia, no? Perché devono aumentare la benzina. Però non ci stanno più i soldi. Non hai capito? Ancora li paghiamo. Sì, ma non ci stanno più. Ho capito, ma ancora li paghiamo. Sì, ma non ci stanno più. Sì, ma la gente sta... Attenzione. Parliamo di altro. Parliamo di altro. Le accise vengono messe. Però poi, alla fine, non sai mai quando le devono togliere. Perché quindi diventa un debito a vita. E soprattutto se gli arrivano questi soldi. Perché non gli stanno arrivando. Ma i Vesoconti non ce l'hanno mai fatto. Perché non ce l'hanno mai fatto. Mai fatti i Vesoconti di questi soldi. Ce l'hanno mai fatto vedere. Vabbè, ragazzi, scusate. Ci abbiamo altre... Ci abbiamo altre... Ci hanno messo nessuno. Aspetta, a parte le altre notizie, giusto per... C'è di scena Buffon. Buffon, ieri ha parlato Buffon, che ce l'ha qui... Dice vergogna. 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 Dice vergogna il PM che per le fughe di notizie, che ormai è di moda pure al Vaticano. Ma noi ci chiediamo, cos'è più vergogna? La fuga di notizie o quello che molto probabilmente è successo nel mondo del calcio? Questa è la domanda. Questo è il quesito di oggi. Il quesito di oggi. Cosa fa più vergogna? La fuga delle notizie o quello che sta succedendo nel mondo del calcio? Qualora fosse dimostrato che tutto questo è vero e che pare che ai primi interrogatori Mauro dice io non c'entro, Mauro, non c'entro niente. Un altro è sereno, l'altro dorme bene. Ma secondo me lo sa, lo fanno apposta. Perché nel Dune Samo vinto il mondiale, noi vinciamo gli europei. Scusate amici, prima di chiudere parliamo di Chico Forti, perché ieri la dottoressa Abruzzone è stata a parlare con chi di dovere per la questione, per far riaprire il processo Chico Forti. La risposta è in una mail che la dottoressa Abruzzone ha mandato a Red Ron e che lui mi ha girato e che noi abbiamo stampato ovviamente a mano perché noi non ci abbiamo restappato. E dice, la dottoressa Abruzzone dice, ciao, quanto all'incontro di oggi con il responsabile degli italiani all'estero. In sintesi, questa è la situazione. Dobbiamo noi procedere di nostra iniziativa a presentare la richiesta di revisione e riapertura del caso alla Corte Suprema Americana. Una volta presentata questa ennesima istanza, allora il Ministero si è impegnato a seguire la vicenda passo passo, puntini, 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 morale, due punti, siamo al punto di partenza. Questo è quello che dice, per terminare bene la giornata. Se lo facciamo da soli, noi tutti, come forza può darsi che si trova con una soluzione. Istituzionalmente non si troverà mai, come tutte le cose italiane. Ma non demordiamo, nessuno demorde per Chico Forti. Ragazzi, appuntamento a domani, venerdì, per l'ultima puntata. Ma strisciano di se c'è ancora? Strisciano di se c'è, è vero? È così, pensavo che fosse venuto insieme a noi, no? Vabbè, allora appuntamento a domani a tutti. Un saluto agli amici dell'Emilia. Se hanno tempo di vederci, giungano i nostri saluti e gli abbracci. Non mollate, non mollate, ciao a tutti. Non mollate, non mollate.